Cari studenti, buongiorno. Sono Maria Chiara Monaco, docente di archeologia classica e coordinatrice del corso di laurea triennale in studi umanistici presso l'Università degli Studi della Basilicata. Con grande piacervi presenterò ora il corso di laurea che coordino. Dal momento che il tempo che abbiamo a disposizione è pochissimo, prima di dare la parola agli studenti, sintetizzerò la presentazione in tre punti. Primo punto, la qualità. Nel settore delle scienze umane, quindi anche nel corso di laurea in studi umanistici, la qualità della didattica e della ricerca che l'Università degli Studi della Basilicata offre è davvero elevata. Non ce lo diciamo da soli. Come vedete ce lo dicono i quotidiani. Stando alla valutazione nazionale della qualità della ricerca, nel settore umanistico l'Università della Basilicata si colloca a seconda tra i piccoli atenei. Un piazzamento di tutto rispetto dietro solo alla normale di Pisa. Secondo punto, la versatilità. Giorgio fa il giornalista, Silvia è diventata archeologa, Giovanni fa l'interprete. Martina, invece, si scriverà il corso di laurea magistrale in Filologia Classica e Moderna e Antonio ha deciso, si scriverà il corso di laurea magistrale in Storia e Civiltà Europee. Entrambi i corsi sono presso il nostro Dipartimento. Cosa comuna Giorgio, Silvia, Giovanni, Martina e Antonio? Tutti hanno frequentato il corso di laurea triennale in studi umanistici. Ciò è possibile perché il corso è articolato in quattro curricula, un curriculum classico, uno moderno, uno linguistico ed un curriculum storico-filosofico. Da un lato esso consente quindi allo studente una solida preparazione di base e dall'altro lo indirizza già verso successive scelte universitarie o specifiche professionalità. Terzo punto, da ultimo ma non per ultimo, anzi forse il più importante del nostro corso. Siamo un piccolo Ateneo ricco di attrezzature, la nostra biblioteca, i nostri laboratori, la mensa. Un Ateneo è un corso di laurea a misura di studente. Un piccolo Ateneo che fa dei suoi numeri un vero e proprio punto di forza. Qui da noi è possibile stabilire un rapporto diretto docente-studente impensabile negli Atenei più grandi. Un punto di forza nel quale crediamo e per il quale lavoriamo molto. Anche in questo caso non siamo noi a dirlo, ma i nostri studenti. Ed è a loro che passo la parola. Arrivederci. Ciao a tutti, sono Gabriele Mancusi e frequento il primo anno della triennale di studi umanistici all'Unibas. Ho scelto il curriculum moderno poiché vorrei intraprendere nel mio futuro una carriera nell'ambito giornalistico, soprattutto quello di inchiesta. Una formazione di tipo umanistico è la Midori in questo campo. Inoltre sono rappresentante di studenti del corso di studi della triennale e ho scelto l'Unibas per un rapporto tra studente e docente diverso rispetto agli altri Atenei. Un rapporto più umano, di vicinanza e di collaborazione stretta che può mirare a una migliore formazione dello studente. Grazie a tutti.